Che cos'è il villaggio di Babbo Natale? Il villaggio di Babbo Natale è un evento contentore, si svolgerà qui in piazza Longobardi e consiste in una mega struttura al coperto all'interno della quale ci svolgeranno numerose attività destinate ai bambini e anche laboratori organizzati con tante associazioni del territorio. All'esterno di questa struttura c'è un mercatino natalizio con casette di legno e nel fine settimana ritornerà anche la carrozza di Babbo Natale per percorrere una passeggiata sul centro storico cittadino di Trani. Il modello è quello dei paesi nord europei? Esatto, ci ispiriamo alle tradizioni dei paesi del nord Europa ma anche del nord Italia dove ce ne sono diversi insomma. Un mese intero di manifestazioni? Esatto, dal 6 dicembre al 6 gennaio sono esattamente 32 giorni di evento quindi tantissime attività, un programma estremamente ricco e dettagliato e non mancheranno anche delle attività benefiche perché a Natale insomma è anche bello occuparsi dei più bisognosi. Se lei dovesse consigliare uno degli eventi all'interno di questo programma? Ma sono tutti quanti meritevoli di attenzione, ci saranno vari laboratori per bambini di diverse fasce d'età quindi andiamo dai 3 anni ai 14 anni.